L'emartro cioè il sanguinamento articolare è il nemico numero uno delle persone con emofilia. Oggi per fortuna questi eventi sono molto più rari grazie alle nuove terapie soprattutto si può fare molto in termini di prevenzione e poi successivamente se questo evento si dovesse verificare. Noi ci facciamo spiegare appunto come intervenire in questi casi da una vera esperta dalla dottoressa Alessandra Borchiellini che abbiamo incontrato qui a Druento a pochi chilometri da Torino nel corso della prima tappa del progetto Articoliamo incentrato proprio sulla salute delle articolazioni di chi ha l'emofilia. Dottoressa Borchiellini cominciamo proprio dall'emartro che cos'è esattamente perché si verifica quali sono le sue conseguenze per chi ne è colpito bambini o adulti come nel caso dei suoi pazienti. L'emartro è appunto un sanguinamento all'interno dell'articolazione nel caso dei pazienti con coagulopatia con emofilia e l'emartro si verifica in maniera spontanea nei casi più gravi, nelle manifestazioni più gravi, in maniera spontanea quindi senza un vero evento traumatico anche solo per la forza di gravità cioè per il trauma da peso e da normale attività fisica e da normale movimento. La conseguenza di questo sanguinamento è un effetto infiammatorio cronico sull'articolazione e un consumo graduale di quella che è la superficie di protezione dell'articolazione cioè della sinovia che si infiamma e un po' alla volta si consuma. Questo processo che chiaramente può ripetersi nel tempo oltretutto perché gli eventi possono essere ripetuti nel tempo se non c'è un'adeguata protezione del sanguinamento porta a un progressivo e costante consumo di questa superficie articolare di protezione, a una perda di quel liquido anche che c'è all'interno della capsula articolare che protegge dall'artrito le due superfici che vanno a incontrarsi a livello articolare e quindi questo un po' alla volta comporta una perda di mobilità dell'articolazione stessa, l'articolazione diventa sempre più fissa, meno mobile e quindi perde le sue capacità, le sue capacità funzionali e fisiologiche. In casi estremi a che cosa si arriva? Si arriva proprio a una perda completa e quindi una completa immobilità dell'articolazione o in flessione o in estensione, dipende da come si verifica il fenomeno di usura e quindi è una perda proprio di autonomia della persona perché comunque immaginate un gomito che rimane in estensione o non si flette completamente per un uomo adulto può valer dire non riuscire a fare la barba. Già da diverso tempo, comunque le terapie servono proprio a questo e c'è stata una fortissima evoluzione negli ultimi anni, ecco che cosa servono i farmaci, i fattori della coagulazione appunto che hanno subito un'evoluzione molto interessante, adesso sono sempre più a lunga durata di azione, che cosa consentono di ottenere soprattutto con riferimento alle martro? Primo obiettivo terapeutico che è stato ottenuto nel tempi passati è stato quello di curare le martro, quindi di bloccare il fenomeno emorragico che è estremamente doloroso, quindi comunque oltre al danno cronico c'è un problema acuto importantissimo che porta il paziente a stare fermo a casa, a perdere giornate di lavoro, di scuola, quindi è comunque una compromissione generale della sua qualità di vita. Quindi il primo evento e la prima necessità è stata quella di trovare dei farmaci che permettessero di curare, di fermare l'evento emorragico e di fermare quindi l'acuzie. Dopodiché la strategia successiva è stata quella di iniziare una profilassi, cioè impedire che l'evento emorragico avvenisse per impedire il fenomeno acuto ma anche proprio quello cronico di cui parlavamo prima. E quindi lì si è iniziato a pensare, i farmaci si sono adattati un po' a questa richiesta, quindi i primi farmaci sono stati farmaci che fondamentalmente venivano somministrati a cadenza regolare per coprire il paziente in tutte le sue giornate e un po' alla volta proprio per liberare poi il paziente da questa necessità di infusione così stretta e frequente, la ricerca si è spinta a cercare dei farmaci che rimanessero in circolo più a lungo e quindi permettessero di dilazionare, di allungare il tempo fra un'infusione e l'altra, che all'inizio era molto frequente perché era ogni 48 ore mediamente, quindi comunque un impegno anche per il paziente non trascurabile. E quindi i farmaci che abbiamo adesso a disposizione permettono invece un'infusione che magari è ogni 3, 4, 5 giorni e questo chiaramente libera il paziente da una terapia molto presente e molto oppressiva e lascia sempre più la libertà al paziente di sentirsi sano, libero e capace e avere la possibilità di muoversi in maniera assolutamente serena. Senta, noi oggi siamo qui perché questa è la prima tappa di un progetto che si chiama Articoliamo, che ha proprio le articolazioni, il movimento, diciamo così, il suo focus e lo dice il nome stesso, ecco ci dice poi un commento su questa iniziativa? Sicuramente il grande nuovo ambito di lavoro per tutta la società scientifica e per i pazienti stessi è la grande sfida, cioè quella di avvicinare sempre più il paziente emofilico a una vita normale e questa ha necessità, questa vita normale ha necessità di avere delle buone articolazioni perché il processo possa svilupparsi e perché comunque la vita di tutti i giorni è fatta di attività e di movimento e quindi il progetto ha come obiettivo quello di spingere verso un'attenzione del paziente e del medico sulla bontà e sul mantenimento della buona qualità delle articolazioni e su un buon controllo anche dal punto di vista medico, nel senso che accanto a quello che è la sensazione del paziente di benessere è importante aggiungere dati obiettivi che diciamo in qualche modo sanciscano questa salute delle articolazioni che obiettivizzino la bontà e per fare questo è necessario avere degli strumenti, gli strumenti classici sono una valutazione articolare fisiatrica che è uno score, un ponteggio che dà un punteggio di benessere ma a questo si sta aggiungendo un dato ancora più obiettivo che è quello ecografico radiologico che necessita anche in questo caso di un training per formare le persone che devono comunque valutarli ma che comunque permette di avere delle immagini e un quadro obiettivo di quello che è lo stato articolare e di monitorarlo nel tempo, nel senso che così abbiamo delle immagini che possono essere confrontate nel tempo e quindi vedere veramente che quello stato articolare sia mantenuto o addirittura migliorato dalle attività fisiche da un lato e da una buona terapia medica di profilassi dall'altro.